I lavori di raddoppio del Ponte Corleone a Palermo saranno finanziati interamente dalla regione siciliana con oltre 17 milioni di euro a valere sui fondi POC 2014-2020. Saranno realizzati due nuovi viadotti laterali in modo da portare le corsie da 4 a 8, alleggerendo così il traffico su un'arteria stradale strategica. Con la costruzione sul fiume Oreto dei due nuovi ponti laterali lunghi 150 metri e alti 16, sarà possibile raggiungere per ogni carreggiata due nuove corsie larghe 10 metri e provviste di marciapiedi. L'opera rientra nell'ambito di un protocollo d'intesa siglato tra comune, provveditorato interregionale delle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria e ANAS. Tra ANAS, regione siciliana e comune di Palermo, quest'ultimo ha finanziato progetto del nuovo ponte e consolidamento del ponte esistente. La regione siciliana ha responsabilmente messo in campo le risorse per il raddoppio delle due campate e ANAS è stato il soggetto con cui, avendo chiuso una convenzione, potrà agire sostanzialmente da commissario e quindi aprendo rapidamente il cantiere. Il cantiere dovrebbe essere avviato a giugno. Si comincerà con la carreggiata a lato monte con l'obiettivo di completare questo primo intervento a metà 2025 e concludere l'intera opera entro dicembre 2026. Il progetto prevede anche l'impiego di strutture più leggere in acciaio, un impianto di illuminazione con tecnologia LED ed elementi per il superamento delle barriere architettoniche. Sarà realizzata inoltre una passerella sopraelevata in corrispondenza della trecentesca chiesa di Santa Maria dell'Oreto per dare continuità al marciapiede e allo stesso tempo permettere l'accesso ai ruderi attualmente non fruibili dell'edificio dichiarato bene di interesse storico e artistico.